allora oggi è venerdì no giovedì sono già le 10 un quarto io mi sono già portata avanti ho dovuto fare delle cose delle commissioni eccetera quindi i cani ovviamente ogni presenti e quindi ho già fatto praticamente quasi la metà delle cose che dovevo fare stamattina e sono andata a fare la spesa però ho detto mentre mettevo a posto la spesa ho detto quasi quasi mi metto a vloggare così almeno chiacchiero un pochino passo meglio il tempo insomma perché per me comunque un passatempo non è ancora un lavoro spero di ormai non ci credo manco più perché la strada è molto complicata però ecco è un passatempo quindi non non ci guadagno niente e passiamo il tempo insieme vi faccio vedere insomma quello che ho preso e intanto la metto a posto la vi poggio eccoci qua sempre ogni presenti in cucina salve allora vabbè come vedete ho sempre preso la mia amata pila di di merende parmareggio per i bambini che tra parentesi alessandro me butta pure i codici quindi non riesco mai a non me li accumulo solamente aurora me li porta e quindi niente tutto qua ho fatto due bussate ma perché perché praticamente oggi viene a pranzo l'amico di mio figlio e allora ho preso un po di cosine sfiziose da per fargli mangiare insomma ho preso la pizza la pala ovviamente perché non può mai mancare la pizza la pala ho preso i fruttolo limone e zenzero questa qui della pompadour che samuele la beve la sera noi beviamo sempre la tisana la sera bastoncini perché li dovevo prendere pinguini per fare la merenda poi ho preso questi che sono i ciucci che ci vanno matti soprattutto l'amico di mio figlio quindi l'ho preso apposta le patatine queste qui patasnella che non faremo oggi ma insomma l'ho prese perché sono sempre comode ho preso questi sughi pronti che a me mi salvano la vita perché ancora non sono riuscita a trovare un tempo per un minuto di tempo per farmi il ragù comunque ho preso il ragù alla bolognese e il ragù contadino la differenza sta che nel ragù contadino c'è la carne di maiale nel ragù alla bolognese c'è la carne bovina e carne di maiale quindi penso che oggi gli appio però questo che è col maiale così almeno sono più contenti poi ho preso questo l'estatè l'ho preso detenato perché perché io non so molto per dare la feina e la caffeina ai bambini e già mio figlio è particolarmente agitato se io oppure la caffeina ho fatto che ho fatto filotto e quindi non insomma ho preso quello detenato tanto sa del limone lo stesso poi ho preso i cosi lo scortex che era finito e i dovaioli che erano finiti ho preso ho ripreso questi biscotti qua l'ho preso i due pacchi che alessandro gli erano piaciuti tantissimo che sono questi biscotti della calbusera cereali g granola e frolla con pezzetti di cioccolato sono buonissimi ragazzi questi sono piccoli così eh non sono giganteschi sono così e però sono buoni sono buoni per levarsi lo sfizzetto magari del dolcino sono molto buoni poi mi sono presa questi e questi questi sono quelli che mangio da una vita e mezza ormai l'ho provati mi piacciono apposto ho voluto prendere anche questi che sono a farro mai savena con farina integrale questi qua che c'è scritto sopra cereali e sempre della misura sono tutte due della misura vediamo un po come sono erano in offerta dico vabbè li prendo tanto ho preso mega mega busta di gocciole che loro le finiscono sempre poi ho preso il parmareggio 30 mesi un pezzettino perché comunque ancora ce l'abbiamo ho preso tre scatole di teneroni per pranzo per oggi così ne faccio e stiamo a posto tre scatole di teneroni e poi ho preso i sedani irrigati per fargli la pasta perché le farfalle non lo cioè c'era una scatola sola ma era infognata sopra e ho provato a saltare per prenderla ma l'ho buttata ancora più giù ho detto affambeco era via poi ho preso due scatole di fragole che mi sa che già ho fatto mezzo danno perché vedo che c'è una gocciolina no 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 ho sbagliato ho preso due confezioni di fragole che oggi se le vogliono gliele do a pranzo le mele pink lady perché mi mancavano le mele ma non le voglio prendere in quantità esagerate perché non le mangiamo tantissimo quindi le prendo poche e poi ho preso anche questi che sono gli smartis visto che sono in totale tre allora le ho presi e poi ho preso questa per samuele per san valentino l'anno non siamo quelli che si fanno i mega regaloni per san valentino perché siamo dell'opinione che san valentino insomma dovrebbe essere un po tutti i giorni non è che ti devi ricordate il tuo valentino o della tua valentina al giorno del 14 febbraio e poi scordatelo per altri giorni e trattarlo pesci in faccia e quindi niente ci facciamo giusto la cena ecco samuele mi ha detto capace che per il 14 porto la cena perché facciamo sempre così in realtà cioè ci regaliamo una cena quindi non cuciniamo la sera ce la facciamo portare senza andare però nei ristoranti perché comunque un po per il covid un po perché ci abbiamo due figli dove li lasciamo e andava a fare la cena di san valentino al ristorante con i figli a seguito non ce vado a sto punto ce vado un altro giorno e allora cenamo a casa e però insomma mi piaceva fargli un regalino gli ho preso questo perché ho visto la pubblicità in tv e poi devo dire la verità preferivo prendere questo piuttosto che prendere quello piccolo perché prende costavano ma c'era poca differenza insomma e quindi gli ho voluto prendere questo poi a lui piace il blu e i cioccolatini hanno la carta blu insomma mi piaceva poi comunque la scatola è molto bella quindi si potrebbe anche riutilizzare per altre cose è quello quello cosato da dolce gabbana praticamente come fanno proprio la pubblicità vabbè metto a posto sta roba così almeno poi chiacchieriamo magari meglio e metto la roba nel freezer e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'ho provata con le cose già surgelate ma immaginavo che andasse bene. Adesso sto provando con le verdure, l'ho già provata l'altro giorno con le verdure e sto provando adesso con i broccoli. Vi farò sapere, però vi giuro che vi farò un video a riguardo solo sulla frigitrice d'aria. Adesso voglio dare un attimo un'occhiata per come stanno i broccoli. Appunto, vedete? Vi ho dato troppo tempo e si sono bruciati. Però si sono bruciati solo alcune parti, però sono morbidi. Cioè non so duri, sono morbidissimi, sono cotti. E... Cioè la cottura del broccolo non va a 200 gradi, che ci potevo anche arrivare ma purtroppo non ci sono arrivata. E ecco qua il risultato. Devo un attimino ancora provarla, vedete? Ci vuole un po', ci vuole veramente un po'. Però questo è pronto, adesso allora le rimetto là ma spengo. Le rimetto qua, vedete quanto è grosso. Le rimetto qua, però gli do fermo. Spegniamo. A posto. Queste sono pronte, stanno lì che aspettano. E qui niente, il sugo lo devo solo un po' far restringere perché ci ho messo un po' troppo... Un po' troppa acqua. E quindi si deve un po' restringere, ma fa niente. E poi lì andrò a fare il mio pesce, il mio filetto di pesce e i teneroni per i bimbi. E il pranzo è pronto. Buonasera. Allora, siamo ovviamente a notte perché lo potete vedere dalla finestra. che siamo a notte. Non ho più vloggato oggi per il semplice fatto che c'era l'amico di mio figlio qui a casa e ci siamo messi a fare i compiti. Poi si sono messi a giocare, io ho aiutato a orare a fare i compiti. Poi mi sono messa un po' al computer. Poi è venuta la mamma e non voleva andare via. E quindi l'ho tenuto un altro pochino. Insomma, un po' un pandemonio, un po' un macello. E logicamente non è che mi sono messa a registrare più di tanto. Quindi questo vlog continuerà domani, ovviamente, che è venerdì. E così almeno, diciamo, dura un pochino di più e c'è un po' più di contenuto, un po' più di sostanza. E ho fatto un TikTok con la frangia, finta ovviamente, con la frangia quella del filtro di TikTok. Non mi sta malissimo, devo dire la verità. Solamente che purtroppo io ho i capelli ricci e la frangia è liscia, quindi sarebbe un po' una cosa poco probabile, no? Comunque, adesso Aurora e Alessandro stanno mangiando con i Chipman. E io invece sto cucinando la cena mia di Samuele, che è questa. Che sarebbe il macinato con i funghi. Macinato e funghi. Che stanno ancora andando, ovviamente. Tardi, perché so, tipo le otto e mezza. Samuele comunque è in palestra, quindi ce n'erà più tardi. Però mi voglio spiegare a mangiare, perché poi mi voglio mettere sul divano, che voglio guardare Harry. Harry, il mio amato Harry. E niente. Sì, andiamo a fare la baldoria. Cioè, sono morta dalle risate, perché loro, praticamente, Alessandro con quest'amichetto suo, praticamente, sono amanti di questo TikTok. E quindi siamo stati pure insieme alla mia amica, cioè la mamma di questo bambino, che sarebbe la mia amica, insomma. Siamo stati lì, andiamo a fare la baldoria. Vabbè, lasciate perdere. Qui è il degenero per la fame e per il fatto che è tardi. Quindi, vi do la buonanotte e fra tre secondi avrete il buongiorno. Uno, due, tre. Buongiorno, anzi, buon pomeriggio. Allora, oggi è sabato, è il giorno dopo, ovviamente. Questa mattina sono stata un po' incasinata, non vi ho vloggato nulla, perché avevo il tecnico della stufa che me la stava mettendo a posto, quindi non è che potevo mettermi a fare chissà che cosa. Poi ho dovuto ripulire tutto, perché logicamente, cioè, quando capitano queste cose, ti lasciano tutto quanto sporco, con le pedate, l'acqua, eccetera, la polvere. Quindi ho dovuto rilavare praticamente tutta casa, anzi che stamattina con molta velocità mi sono messa a sistemare tutto, pulito i bagni, ho fatto i letti al volo, eccetera, eccetera, perché almeno sapevo che dopo avrei passato il resto del tempo a pulire per bene il pavimento. Sentite un gran silenzio, perché Alessandro sta qui accanto a me, fa vedere la manina, sta facendo i compiti e Aurora invece è andata in bicicletta a casa di una sua amica. La prima volta che usciva in bicicletta sulla strada, diciamo, perché lei ha sempre fatto il giro del palazzo, comunque dei palazzi qui intorno, però sulla strada proprio non c'era mai andata. La prima volta oggi è andata bene, si è un po' piantata quando doveva attraversare, ma insomma, penso che sia normale. Il padre, alla sua età, ha cominciato ad andare in bicicletta e ha fatto subito un incidente, quindi io sto praticamente così, perché ho l'ansia a mille, però vabbè, insomma, un po' di fiducia, bisogna dargli i lasti figli che dobbiamo fare. E l'ho lasciata che stava lì, che stava giocando con i suoi amici, ma un po' a sapere, erano un po' un gruppo dei cinque, sei figli, quindi erano tutti lì. L'ho lasciata là, tranquilla, gli ho detto, tanto c'è il telefono, gli ho detto chiamami se ti devo venire a prendere e questo, se no prova a ritornare da sola, non lo so come fa, insomma, poi comunque vediamo. La distanza non è tantissima, però c'è una strada, quindi comunque un po' di pensiero ce l'ho. Comunque Alessandro adesso sta facendo i compiti, perché doveva andare a casa del suo amico di ieri, abbiamo già fatto italiano, ci manca matematica, tecnologia, abbiamo finito. Così almeno domani lui i compiti non li deve fare, li deve fare solo Aurora e niente, poi domani mattina... Sì tecnologia, cosa? Geografia, scusami, mi sono sbagliata, ho confuso tecnologia con geografia, raga, non ve sbagliate, geografia con tecnologia, volete sbagliare. Vabbè, continuiamo a fare questi compiti e poi lo mando su dal suo amico e io cerco di farmi una doccia, perché veramente, cioè la vorrei fare perché ho i capelli sporchissimi, però alle sette e mezza stasera vado a Pilates, quindi non so quanto mi convenga lavare i capelli stasera, semmai li lavo direttamente domani mattina, che tra parentesi domani mattina mi tocca portare Aurora alle dieci e un quarto accanto, lui alle dieci e mezza ha catechismo e poi mi devo andare a prendere Aurora alle undici e lui alle undici e mezza più o meno, insomma, undici e un quarto. Si ricomincia, si ricomincia, poi Aurora quest'anno c'è la comunione, quindi stiamo già al ristorante, già ho deciso, già abbiamo prenotato per quel giorno, l'ho fermato perché è un bel posto, si mangia molto bene, c'è la possibilità, visto che la comunione sarà il 5 di giugno, c'è la possibilità di mangiare all'esterno, cosa ottima perché c'è anche un bel prato, quindi è molto 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 comodo, soprattutto perché ci sono un po' di bambini alla comunione, quindi almeno giocano e giocano, insomma. E niente, una cosa che devo fare, però non so se farla adesso o aspettare un'altra mesata, almeno aspettare marzo, è le bomboniere, ma penso che le aspetterò, perché non ho ancora realmente un'idea. Me sta a scrivere, me sta a scrivere, me sta a scrivere una mia amica, non ci sta a capire niente, non so cosa, va bene. Insomma, dicevo, le bomboniere le farò più in là, le sceglierò più in là, anche perché ho un'idea in mente, che è un po' particolare, però devo vedere un attimo se mi conviene farle fare o farle da sola, anche perché mi piacerebbe farle da sola, solamente che farle fare me levo un po' una rogna. E niente, detto ciò, io continuo a far fare i compi di Alessandro e poi niente, e poi vediamo Aurora a che ora si presenterà a casa, se sarà ancora tutta intera. Allora ragazzi, siamo in bagno perché volevo provare con voi i prodotti di pomelo che ho preso l'altra volta, ancora non l'ho provati, volevo provarli con voi perché volevo proprio una reazione proprio al primo utilizzo, diciamo, proprio una reaction, ecco. Allora, prima di tutto devo applicare la maschera, questa qui. C'è scritto di lasciarla raffreddare in frigorifero per 10 minuti prima dell'utilizzo, ma è già fredda ragazzi, perché qua è freddo, e applicare una nocciola di prodotto sulle lunghezze e sulle punte, dopo 30 minuti fare lo shampoo e il balsamo come di consueto. Allora, la situazione dei miei capelli, capelli bianchi, levando i capelli bianchi, che praticamente purtroppo data l'età ce l'ho, allora la situazione dei miei capelli è questa. Come vedete, ormai sono arrivati, sono sporchi, è una cosa indecente, e poi ho sti capelli bianchi, che prima o poi, appena il mio parrucchiere torna dalle Maldive, dovrò andare a fare sti capelli. Comunque, adesso vado a mettere appunto il prodotto, mi levo gli anelli perché non mi pare il caso. Allora, vado a mettere una nocciola di prodotto, prima ho visto che vanno prima un po' smosse, ecco. Poi, avro e vado a mettere, prende il prodotto, se ci riesco a farlo uscire, ragazzi, ok. Così, sarà una nocciolina? Sì, sì, una noce di prodotto, eccolo qua, sì. Ok, adesso lo scaldo. Oh, sembra il coso, sembra una... Oh, guardate, da solito si è trasformato in liquido. Fantastico. E adesso lo vado a mettere sulle lunghezze. Allora, sapevo che da varie recensioni so che non ne serve tantissimo, quindi non ne applicherò più di quello che hanno scritto loro sulla confezione. Sento che sta praticamente in tutti i capelli il prodotto. Adesso li riprendo di nuovo, così. Lo sapevo che andava a finire così, no? Adesso li riprendo. Perché, Manuela, non fai una coda come fanno tutte le persone? Ok, allora, a posto. Adesso sto 30 minuti con questo in testa e poi vado a fare lo shampoo e il balsamo. Allora, eccoci qua. Questi sono i miei capelli bagnati. Ho appena fatto shampoo e balsamo. Adesso vado a fare un po' di styling. Io metto questo, che è della Fructis di Carnier. Questo sarà tipo il trecentesimo... il trecentesimo coso che compro. Allora, facciamo così. Io metto prima un po' qua, così, ad allisciare. E poi faccio questo movimento qua, che serve per fare il riccio. Ok? Io sempre faccio il doppia, il doppia d'olosi, ma non è una cittura. Questi sono i miei capelli con il Fructis. Vedete come già hanno preso un minimo di riccio, no? Ok. Adesso... Mi sciacco le mani, madonna che faccia, ragazzi. Allora. Adesso, visto che dobbiamo provare tutto quanto, tipo melo, voglio andare a provare anche questo. Allora, questo qua, praticamente, come vi ho già detto, è uno spray idratante al sale marino infuso di temmacia. Allora, si può vaporizzare sia sui capelli umidi che asciutti. E poi lavorare con i polpastrelli. Allora, io sui capelli asciutti l'ho già provato, sono sincera, ma me li secca troppo. Forse sono io che sbaglio la quantità, non lo so. Fatto sa che ora voglio provarlo sui capelli bagnati. Devo fare così perché se mi va negli occhi mi pizzica. Ok. E adesso facciamo lo stesso movimento di prima. Vediamo poi, dopo che vi ho asciugati, come è la situazione. Ok. Asciughiamo. Asciughiamo. Allora, ecco qua. Questi sono i miei capelli appena asciugati. Adesso ci vado a dare... Come sono, secondo voi? Come sono? Non vedo differenza. Forse sì, forse un po' più luminosi. Vado adesso a mettere questo, che questo me l'ha dato il mio parrucchiere l'ultima volta che sono andata a fare i capelli. Ed è un olio per capelli all'argan e vitamina E. Allora, questo è il risultato finale. Voglio mettervi un attimo così. Allora, questo è il risultato finale. Che ne dite? Mi fate casa al casino del bagno, però. Che ne dite? A me l'effetto sui capelli umidi del coso piace. Ragazzi, io ce l'ho tantissimo. Mi piacciono. Perché non so proprio... Sono morbidi. Sono proprio morbidi al tatto. Mi piacciono proprio tanto. Sì, sì. Diciamo che devo riavare a far colore, ragazzi. Ha scaricato tantissimo. Però sì, mi piace. Mi piace. Allora, fatemi sapere anche voi se magari avete già provato questi prodotti, come vi siete trovati, se vi piacciono, eccetera. Io adesso vi saluto perché penso che questo video vlog di due giorni è lungo un... Boh, almeno una quarantina di minuti, secondo me ci arriva. Non l'ho contato ancora, però mo ci guardo. E niente, io vado a prendere Aurora che già mi ha chiamato. Però sì, mi stanno bene. Mi piace, mi piace. E niente, io vi saluto, vi mando un bacio, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!